ciao a tutti la tua e la mia e insieme a queste belle passe oggi desi ma dovevamo fare qualcosa nel video ma non c'è niente ragazzi c'è qualcosa? non c'è niente c'è abbiamo qualcosa? no cos'è? non c'è niente vabbè è un video a chiacchiera chiacchieriamo con i nostri amici ci facciamo una chiacchiera com'è andata oggi la giornata? bene? sei tornata adesso da danza forse c'è una sorpresa bella sorpresa c'è una sorpresa desi? tu sei qualcosa? un po' si e tu sei qualcosa? no e allora desi gliela facciamo vedere questa sorpresa che abbiamo in servo per marianna? si in servo che significa? una parola vado a prendere vado a prendere io? va bene la vado a prendere io pensa se non gli piace eh? no gli piacerà ok ci aspetti qui? certo perfetto aspetta eh? si si sorpresa ecco papà che arriva con la sorpresa con gli occhi chiusi aspetta eh? aspetta eh? aspetta eh? aspetta eh? aspetta eh? siamo pronti? si si apri gli occhi che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è? però era rimasta contenta uguale è vero? ahahahah mi sono più contenta mia ora c'è mia che abbiamo? facciamo vedere logica 3 lol e jk e per desirée abbiamo la crybabies con con le vestite d'oro la crybabies falla vedere però gira la crybabies quella edizione speciale dorata la apriamo già? già che ci siamo? apriamola allora aspettate aspettate allora adesso facciamo che apriamo prima una cosa e poi ne apriamo un'altra no si fa come sempre con carta polvice pietra carta polvice pietra ah iniziate vai allora cos'è? non so se è facile o non è molto facile se vuoi dopo ti aiuto io è difficile è difficile è difficilissimo cioè non è come le lol che si scartano e scelto proviamo da sotto funziona sempre da sotto funziona sempre da sotto ecco ragazzi sto riuscendo sto riuscendo ecco vai scarta sembra tutto però vai scartiamo la carta scarta come dice alcuna gente alcuna gente come dice della gente cipolliamo 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 si cipolliamo ah beh c'ha una forma di una cipolla che bella sono quelle che cipolli è una cipolli è una cipolli è una cipolli è anche specchiata è anche specchiata eh si wow con la stella guardate qui ragazzi è per dormire è una camera per dormire bellissimo se conoscete i crybabies tu apri o ci sta sto coso ci sono le sorprese dentro e giri ci sono le sorprese ok allora si presenta quello che c'è ti sono detto il bucler 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 come si fa queste scoli io c'ho quella rara hai quella rara veramente no questa è rara ah questa è rara questa è rara io c'ho questa ok però fate vedere chiesa chiesa questa è rara Ah ok Sono belle De te c'ha questa però non oro Ok andiamo avanti Vediamo Qui che abbiamo gli adesivi Sì non sono mai usciti Perché questa forza Che è il nome Oh che carino Prima sorpresa Quella stella E ma qua trovo una gocciolina Che cos'è Cos'è Una gocciolina Forse perché è un liberone Quindi c'è la goccia Allora Eh forse sì Poi Non c'è niente Come non c'è niente Non c'è niente È vero Come non c'è niente E forse allora è riuscita la gocciolina da lì Forse Vediamo Andiamo avanti Vediamo Ha rotto uno sportello Che cos'è Capisco Un gelato Vediamo Oh carino Sarà il gelato Che piace Che gli piace Ma che gli piace mangiare alla cucinella Molto buono E ha il gusto Dorcinella Dorcinella Cos'è Vediamo Vediamo Qualcuno Forse Vediamo Secondo voi cos'è ragazzi È una bottiglia Una bottiglia Una bottiglia Ah sì È una bottiglietta Non lo so Che potrebbe essere Cos'è secondo voi Chi è Un altro gelato Sì Uno Sì potrebbe essere un altro gelato Allora Vediamo Nell'altra casella Ok Stiamo avanti Il calendario Già il calendario della vergista qui Delle Grey babies Cos'è La sediolina Ah la sediolina Ce l'abbiamo viola Anche noi Allora Del sdraghetto Aiuto no Ti aiuto C'è È stato un problema Ragazzi Vedete È andata Lo sportellino dentro Ecco qua Il ciuccio Chi si può mettere il ciuccio Ragazzi Vediamo Facciamolo vedere Facciamolo vedere Guardate Oh che carino Ma è veramente bello No ragazzi Ho scoperto una cosa È il mascara Mi piace È il mascara È identico Alla scatola Questo qua No Allora bisogna metterci Ah è il mascara No vabbè Ragazzi Facciamolo mettere Un mascare Oh grazie Si trucca Si staglia Regge Oh No cade Volevo farlo Accomodare Allora Ci abbiamo Altre due caselle Tre Questa E questa E questa qua Ah ma ce ne sono tante Quante sono le sorprese in tutto Ah già l'aveva aperto Vediamo ragazzi Quante sorprese ci sono in tutto Quante sorprese ci sono Nove Ah nove sorprese Sono tante Sì Cos'è Parmi tutti Parmi tutti Dessi di aiuto Sembra Un fiocco Cos'è Sembra un fiocco Prova a rovesciarlo Magari cade Ok Eccolo È una collana È una collana No vabbè ragazzi Questa si trucca Se mette le cose Ma che è È fashion Una cucinella fashion È super fashion Super fashion È un brachal Un brachal Non si mette questo brachal Che carino Ecco qui Ok C'è l'ultima sorpresa Ci piace molto Ci sarà la sorpresa o no Certo Certo sicuramente No Come no Niente Ma che cos'è Come niente Ma non è possibile Quante sono in tutto Le sorprese quindi Facciamole vedere Qua Abbiamo Uno No questo no Perché questo era insieme Uno Due Forse questa Tre Quattro Cinque Cinque Sei Sette E otto E ci sono tutte Eccolo qua Uno Due Tre Tre Quattro Ecco qua Ecco qua Cribe 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 Bess Dorata Io la vorrei fare Pianti Ecco il poverino Ci è piaciuta molto Policione Pollicione Ci è piaciuto Dovete sapere Questa roll Questa roll E' vero Perché Cribe Sì Bisogna riempire il biberon Desi vai a riempire il biberon La facciamo bere Vediamo da dove escono Si escono le lacrime Ora tocca a me Ad aprire Allora C'è un problema Qui non so C'è molto scotch Niente Tanto Ma è tristica Va bene Io Muto Ma riesco ad aprire Sta Tanto Tanto Scotch Cosa Guarda qua Ci stanno pure Le palline Della cucina Di cosa Che sono le palline Sì Sì Tipo Ok ragazzi Ho tolto Quasi Il primo pezzo Di scotch Ce ne sono Altri mille Mamma Mi aiuti Ok Fatto Abbiamo fatto Siamo riuscite Dovremo togliere Questa pellicola Ecco qua Ora Dice di Fare così Scendiamo la zip Guardate Fisarmonica Wow Wow Però come fai Allora Per aprire la logo C'è questa linguetta E però Dice di spingere A fisarmonica Forse c'è un motivo No No ti fa vedere Che puoi spingere Ah ok Pensavo uscisse qualcosa No Ti fa vedere solo Che puoi mandare Il suo Ah ok Ok una Ci sono 15 sorprese Tantissime Tantissime Non si prende C'è un problema C'è il bloccato Spacciamo la scatola Ma secondo me C'è qualche altro modo Per le varie Aprire Non lo so Ah Aspetta Adesso Capito 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 Acqua Sono Dove sta la bambola Non ci sta la bambola E qua dentro No non è là dentro Allora Perché la bambola sta qui Eh si Dopo la prima La bambola sta qui dentro Dopo la prima Ragazzi Prima abbiamo Le accessori Le sorprese Si Wow Con lo specchio Guarda quante Sono tantissime Non tantissime Allora Problema Come hai detto Nel tuo specchio Qua c'è un problema C'è altro scotch C'è altro scotch E Qua c'è Qua c'è Qua c'è una strana cosa Ma una polverina Non si apre Ma questa è una polverina Ah Ma va È molto facile C'è tipo una specie di Della spilletta Il pezzo di sopra Asciutto Che carina Ma questa sera Abbiamo tutto d'oro Ma anche questo È tutto dorato E' una strana E' una strana E' una strana Vero No Ma papà Ragazzi guardate Che bella La giacchetta Con la stampella Che attacca dalla stampella Sì Cosa Guarda Ecco il primo accessorio Che carino E ci sta proprio Stai sciolto Ci sta proprio Stai sciolto Per Per metterlo Tipo È una figata Ok Primo Primo accessorio Ho preso Aiuto Io stai facendo Sì Dopo proviamo Il biberon Che carini C'è un altro vestito C'è un altro vestito C'è un problema Però Qua ci sta Vestito Cosa c'è C'è l'etichetta Attenzione che non si rompe Sta su qua Sta su Sare Guardate che bello Vestito Wow Ma è un vestito Proprio Oh che bello Vestito No vabbè È super Poi Quest'altra scatola Vediamo Cosa ci sta Il biberon No ragazzi Questa è la prima lol Che trovo il biberon Di queste dimensioni È la prima lol Che trovo il biberon No vabbè Sono troppo fuori Da stasera Io sto mai Stasera Ovviamente ragazzi Voi dovete sapere Che noi Questa non è È la prima lol No No Ne abbiamo Una ventina Sì Ne abbiamo tantissime Io ce l'ho Pure Va bene Lì insieme Abbiamo 20 lol Pi o meno 20 Tantissime Oh L'hanno tutta Qui volano I pezzi Delle lol Qui sono le scarpe E qui Sta Dovrebbe esserci La Abbiamo più le scarpe Cosa L'hanno Gli stivali Gli stivali Gli stivali Giusto Sì ma Ho un piede minuscolo Perché qua c'è una cosa che blocca Sono tanti No Ma quanto sono alte Sono Pure mamma ci arriverebbe alle luci Apriamo l'altra scatola Bellissima Già mi piace La borsa Oddio come sarà Delissimo C'è un moto di roba Aspizze C'è un moto Collana Agli occhiali Bellissimi Ho visto il telefono Il telefono Che cos'è il cerchietto? Sì Bello Guardate Guardate Telefono Ragazzi Il telefono Il telefono No ma dai Ma è alla moda proprio È una collana Ma veramente è il telefono? Sì Una specie di tablet D'elefono Sì C'è anche la collana La collana No vabbè ragazzi C'è troppa roba bella Ma il pezzo di sotto di questo Dopotutto Dov'è? Come il pezzo di sotto? Perché è una giacchetta Questa è una giacchetta Un coprispalle del vestito Ah ho capito Ora abbiamo la loro Punto più importante Toglietemi tutti Allora Che carina sarà Sarà troppo bella Ma sono 15 pacchetti Eh c'è sta pure qua dentro Ah ok Prima facciamo questa cosa Che a me piace troppo Oh C'è carta Bellissima Come si toglierà questa cosa? Cioè Allora Ragazzi che bella Troppa Ma tenaci C'è un costume No vabbè C'è un costume Ragazzi Ragazzi questo film è bello Non so che era Perché qua la fa vedere lunga È vero Beh perché hai tacchi Con i tacchi Sembrerà molto più alta Ragazzi è bellissimo Quindi adesso faremo piangere Adesso la facciamo piangere Ragazzi come è morto Che gli sono i capelli No ma sembrano veri Bichissimo Eh sono quelli di quelli veri Noi abbiamo un'altra L'altra LOL Che ha tutti i capelli ricci Sì Che gli vengono pure negli occhi C'è un problema Qua c'è da tagliare Ok aspetta che ti prendo l'occorrente Problema risolto Sì Sono abitissimi Guarda se è pronto Vestiamolo subito Subitissimi Eh sì la dobbiamo vestire adesso Fammi vedere Desi Hai messo gli adesivi Ma facciamo vedere Come piange questa bambola Questa cry baby Sì Andiamoci Alla Non aveva tanta sete Hai bevuto Vediamo un po' Ho scoperto una cosa Ma piange Forse ha preso poca acqua Ma sei sicuro che ce l'ha messo là Sì 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 Piange Piange Facciamo vedere Oh ma piange lacrime dorate Grazie Facciamolo vedere bene Andiamo un po' Vedete ragazzi C'è le lacrime Piccolina Piange lacrime dorate C'è la tua Bellissima Spina Che la tuve da far piangere Non l'ho capito Però questo occhio non esce Piange solo È perché è È un'edizione speciale Piange solo da un occhio Ma guarda di quanto è bassa Con i tacchi si dovrebbe bastare Eh certo L'hanno fatta apposta per me E tipo apri Ti può apri No ma sono veramente simili Sono proprio simili Questa cry baby con la lolle Sono simili Mari ci siamo? Sì guarda No ma si è alzata veramente Che bella Io ho visto che No guarda tra tutte quelle che abbiamo Devo essere sincera Questa è la mia preferita È la più bella Cioè mi piacciono tantissimo Anche questa cry baby È bellissima Mi piace proprio Ah brava Falla riposare Aiuto Gli occhiali un po' difficili Questi sono gli occhiali che ho sempre voluto Gli occhiali quelli in lampo da figa Questi qua vanno così No Eh te l'ho detto questa è la moda proprio questa Questa lol La moda 2022 Stivali altissimi occhiali alla moda cellulare Non gli manca nulla Ora pure le lol al cellulare Continuiamo a mettere vai Vai Mari siamo curiosi È super bella Io la amo Allora Io sto mettendo tutto a posto Ah sta nella sua casetta Col ciuccio Col ciuccio E ora si addormenta Mettigli la copertina Come faccio? Così vai Mettigli la copertina Ecco qua Buonanotte Come la chiamiamo? Chiamogli un nome Ah beh giusto Lady Lady si chiamava Giusto si chiama Lady Si Perfetto Collanina Ah questa non è una collana Va qua Ah è la cinta È la cinta del vestito No è proprio la moda È proprio la moda Forse è super fashion Oh mi sento super fashion Oggi sei una star Ok Ok Biberon Limanon Aiuton Come si mette? Uno Cellulare La mia macchina Ma c'è Non posso crederci No vabbè Sono troppo fashion C'è non fai capire C'è bellissima Sono molto felice Io ho chiuso Stato bello È stupenda Ti è piaciuta Desi? Si Mari a te è piaciuta? Più di piaciuta Com'è Piaciutissima Non si dice Però vabbè Dettagli Ragazzi Speriamo tanto Che in questo video Siete Mettetevi un Pollicione E scrivete al canale Vistoria Mazzanelle E Attivate la La cinta di Milano Che fa Ding dong Ding dong E al prossimo video Ciao 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 Ciao